Bella a tutti ragazzi, Corgasmic sono qui con un nuovo episodio dei Potential Transfer di FIFA 16 Un episodio, ragazzi vi anticipo subito, esplosivissimo perché abbiamo tre giocatori stra-importanti Di cui parliamo subito, però prima cominciamo a lasciare un bel pollice in su, un bel like Vediamo se riusciamo ad arrivare per questo video a 400 mi piace per i tre giocatori di oggi Veramente se lo meritano per le trattative di oggi Come sempre scrivetemi nei commenti qualche altro giocatore da trattare nei prossimi episodi Comunque visto che il mercato sta finendo, non so quanti altri episodi ci saranno Quindi fatemi sapere nei commenti qualche altro giocatore Comunque partiamo subito con i giocatori perché abbiamo poco tempo e le cose da dire sono tante Il primo giocatore è De Bruyne che probabilmente saluterà il suo Vosbur per trasferirsi in Inghilterra Cioè al Manchester City per una cifra altissima, circa 70-80 milioni, non si sa ancora la cifra precisa Una cifra follissima perché ormai il calcio permette di spendere cifre folli ma proprio clamorose Il Manchester City avrà speso qualcosa come 200 milioni e passa in questo mercato E se non vince qualcosa è veramente una follia Comunque io penso che abbia già ipotecato un po' la Premier League con quest'ultimo colpo Perché comunque è arrivato anche, oltre vabbè a Sterling, ma è arrivato anche Otamendi in difesa per 45 milioni Che è un gran difensore e farà una coppia strepitosa, forse la migliore della Premier con Company Parliamo di De Bruyne, De Bruyne che si inserirebbe in una squadra che è già comunque completa Ha comunque tanti giocatori a far concorrenza De Bruyne però penso che giocherà comunque titolare il ragazzo belga Che comunque già conosce la Premier visto che era al Chelsea qualche anno fa, un paio d'anni fa Comunque la cifra come ho detto è folle Io l'ho upgradato di 2 perché magari sarà 84 però ho voluto mettere 85 perché quest'anno ha ricevuto un macello di versioni IF, Hero, Tots, eccetera Tutto quello che volete E quindi ci potrebbe stare una versione bella grossa di De Bruyne che se lo merita comunque è un ottimo giocatore Che però non vale quella cifra improponibile che il Manchester City sta sborsando per portarsi a casa questo giocatore Comunque sia è un gran colpo per il Manchester City che potrebbe avere la rosa più competitiva di Premier League Andiamo con il secondo giocatore di oggi, un altro giocatore della Premier che però in uscita stiamo parlando di Juan Quadrado Che ormai è una trattativa che si potrebbe fare, cioè quella di un suo possibile prodo alla Juventus Juventus che sta cercando un trequartista, Quadrado non è un trequartista, bensì un giocatore di fascia, un esterno E quindi non so quanto potrebbe far bene in quella posizione visto che giocherebbe fuori posizione alla Juventus Juventus che non riuscirà ad arrivare probabilmente ai vari Mkhitaryan, Draxler e tutti gli altri nomi che sono stati fatti in questo mercato Perciò potrebbe ripiegare su Quadrado che comunque è in uscita dal Chelsea E quindi potrebbe appunto prendere il giocatore Il Chelsea vorrebbe liberarsi definitivamente, magari dandolo anche in prestito però con un obbligo di riscatto La Juve lo vorrebbe con un diritto di riscatto non so a quanto fissato Comunque c'è da dire che a gennaio dell'anno scorso, cioè comunque di quest'anno Era stato venduto dalla Fiorentina al Chelsea per circa 30-35 milioni E quindi dopo pochi mesi è già stato sbolognato Quindi per farvi capire che a me questo giocatore non è che faccia poi impazzire Ma nemmeno a Murigno da quanto si è visto Comunque non so se potrebbe fare bene alla Juventus visto che è un giocatore di fascia E al centro magari non renderebbe come ha reso con la Fiorentina in Serie A Che comunque ha sempre giocato abbastanza bene Quindi potrebbe essere un buon acquisto o potrebbe rivelarsi un acquisto un po' negativo C'è da dire che nel caso Allegri poi passasse anche a non so un 3-5-2 Quadrado potrebbe fare anche volendo all'esterno Nel caso mancassero i vari Liechtenner eccetera eccetera Però c'è da dire che è un buon colpo Perché comunque Quadrado è un buon colpo Però non è proprio quello che la Juve starebbe cercando E infine andiamo con il terzo giocatore di oggi Un colpo che sarebbe veramente incredibile Avrebbe dell'incredibile Cioè quello di Balutelli Che potrebbe tornare in Serie A Pensate bene Alla Sampdoria Come si sta sentendo in questi ultimi giorni Tra l'altro mi fa ridere la faccia di Balutelli nella seconda carta Comunque è una trattativa abbastanza complicata Perché per vari motivi Prezzi, costi, stipendi eccetera eccetera Però non sarebbe una cattiva idea Balutelli potrebbe tornare in Italia Andare alla Sampdoria E fare una bella copia secondo me con Cassano Potrebbe essere una copia davvero interessante Da vedere quest'anno in Serie A L'ho downgredato E di 2 e di brutto Perché ci sta Visto che Balutelli ha giocato tipo 4 partite tutto l'anno Per dire Quindi è giustissimo un downgrade per questo giocatore Comunque resta una discreta carta Una buona carta Andrebbe comunque a poter provare A riscattarsi alla Sampdoria A Genova E secondo me potrebbe anche far bene Comunque in coppia con uno Con la qualità di Cassano Quindi non so Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trasferimento Anzi cosa ne pensate di tutti questi trasferimenti Di cui abbiamo parlato oggi Io penso che siano molto interessanti Come sempre raga Lasciate un bel mi piace Per questo video Spero vi sia piaciuto 300 o 400 mi piace Ci stanno per questi giocatori Come sempre Come vi ho detto prima Scrivetemi nei commenti Qualche altro giocatore da trattare Nel ultimo O gli ultimi episodi Di questa serie Perché comunque Il mercato sta per concludersi Magari poi alla fine del mercato Farò un video per O riassumere un po' Tutte le più grandi operazioni di mercato Che ci sono state In questa sessione O per fare una range finale Di tutti gli ultimi trasferimenti Fatemi sapere comunque nei commenti Iscrivetevi al canale Pagina Facebook Twitter Instagram Tutti i link li trovate come sempre in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Grazie a tutti i video 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 i